Quello che a noi interessa di più è il fatto che l'anno scorso in legge di stabilità per quest'anno e per l'anno prossimo sono stati stanziati 10 milioni di euro al Comitato Promotore di Roma 2024. Di questi 10 milioni di euro, 2 milioni di euro pari siano già stati spesi quest'anno. Ecco, a noi preme molto capire, abbiamo chiesto al Presidente della Commissione di Bilancio, di cui io faccio parte, di audire quanto prima i promotori, i Presidenti del Comitato di Promozione di Roma 2024 per sapere dove cavolo hanno speso questi soldi pubblici. Questo a noi interessa molto.